buongiorno raga benvenuti benvenuti dal vostro gremlins della rete ciao ragazzi io sono un oggetto nerd e niente di che cosa andiamo a studiare quando c'è Yugi le presentazioni strane perché la community di Yugi è molto particolare così sembra un'altra cosa però ciao ok che cosa andiamo a spustare uomo sei sarcofago d'oro ok non lo sappiamo provare diciamo la singola sarcofagi no non esiste sarcofagi sarcofago d'oro sei dove hanno ristampato praticamente l'anima che è la Konami ogni tanto da queste porte di vita andiamo a leggere un po perdiamo un po di tempo il team sarcofago d'oro 2019 questo team sarcofago d'oro contiene tre mega pack più cinque carte e foil aggiuntive ognuno dei tre mega pack contiene una rara segreta prismatica che la nuova rarità hanno fatto tanto hype e poi la buttano così 600 euro di carte prismatiche proprio che l'hanno stampata nel team ma no una ultra rara una super rara una rara e 12 carte comuni comprendendo carte dalle seguenti espansioni fiamme delle distruzioni salvatori oscuri orizzonte cipennetico e fusione delle anime le cinque carte aggiuntive comprendono due su sei nuovi mostri con illustrazioni di cacuzzi 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 che è il disegnatore di yu il creatore delle artwork ricordiamo che con questo team per la prima volta ritorno le promo random cioè sono 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 11 in totale però sono random e non i bustini a meno è piccolo rispetto a tutti gli altri team ed è bellissimo è altro che il fatto che è un fatto che le altre volte permettere diciamo dei personaggi hanno dovuto per forza inserire nelle promo qualcosa del personaggio stesso e quindi era sbagliato si stanno comunque questa una divinità egizia exodia però c'è exodia no c'è l'exodia quello il rivendicato rinato il rivendicato rinato non mi ricordo c'è un nome strano c'è un nome strano quale exodia è il sovrano draconico non lo so può darsi però c'è un nome strano non lo sapevo in più ci sono state ristampate le carte andate a prendere ragazzi oppure siamo 14 15 persone ricordiamo che sono state appunto inserite anche le bustine di dark savers che è un'edizione speciale per avere la ristampa di alcune delle carte che non sono mai state ristampate tipo l'engage che l'hanno fatto già sei volte ormai iniziamo allora abbiamo aperto comunque prima di questo alcuni dei ragazzi hanno già preso dei hanno trovato tutti prima questa tutti tutti prima ora colo di palladio quella è una carta per il dragonero occhi rossi ma hanno detto così non lo so non l'ho letta e infatti si è preso il ragazzo odia il leggendario che si difensore leggenda iniziamo bene con un biru che della essere primordia raga è il big bang con la carta inutile 10 è creata si combattia big bang attack e so vegeta spostati con bellis che nella versione più bella mai creata il tormentatore soprattutto con la la firma è il drago del cielo che ci manca anno sul manca il dragolotto dirà che lo troverai sicuramente da un'altra parte sicuramente è belle proprio segnati no perché sono 11 se non vi escono allora da ogni segno non è colpa di poco 3 mega pack contenenti 15 carte esatto vado avanti con le comuni di cui 12 da buttare la maga predisse che è stata ristampata da super a rara ma vai 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 le ultra e le esatto le ultra e le paral sono quelle importanti il multi faker no no non si dice non si dice ragazzi facciamo i video family friends e non lo so cambieremo boicottone cioè boicottone allora la colpa è di mantis è di mantis perché io usavo una rosa ero proprio invece mantis mette istica mi spiega nella piaga fusione drago del tuono questa è la carta più inutile mai creata ma perché è il cyber drago seager quella è bella per il cyber drago ma con la carta reproducto sempre era inutile anche perché l'hanno fatta super da ultimo pacchetto del primo team mi raccomando ragazzi se volete scusate se volete scusate se volete che continuiamo a spussare mi raccomando mettete like condividete iscrivetevi al canale perché se non lo fate siete degli stupidi idioti maledettissimi siete delle rane vi devono mangiare i topi ma è il primo morso abbiamo capito ok al bar bello la squadra ma quella è la mec è la carta mec no è la carta pericolo bello uguale lo stesso uguale stesse carte allora è andato troppo bene chiudiamo il video ci vediamo al prossimo no è andato bene è andato bene comunque mai col secondo team secondo team un'altra promo per il mago nero mago del caos oscuro massimo si quando hanno fatto il drago caos mars aspetta aspetta volevo far vedere andate allora risolvetemi il rebus massimo perico no ragazzi tutto no volevo far vedere la rappresmati si vede si 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 vede il drago nero alternativo occhi rossi la forte soccoridore tridimensionale vale lo regechi e un altro obelisco nel frattempo vi ricordo che in descrizione ci sono il link dove vi potete contattare per tutte le varie carte tranne qualcosa forse però hai contattate contattate tanto qualcuno non si sa mai risponderà belle il link tantissimo che hanno ristampato qui c'è un pericolo si lo sanno che l'avevo visto luce di secca questo è il mio team è uguale questo è il mio è uguale le hanno fatti a pacchetto secondo pacchetto si sta vedendo tutto trovato si 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 va a fare tutto l'inizio sono già due si 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 è già già no non mette il po' rive sempre il sistema che l'hanno fatto la super un altro pericolo di bigfoot è il fondo del drago sempre quello di prima il ruggito drago il ruggito del drago comunque se questo video non è per me il fredd vi ricordo che la colpa è di mantis che sa in gru claudio mangiare maledetto lui il cozzaro nero il cozzaro nero piano 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 eredito del mondo la lancia fericolo ma c'è un culo c'è sta avendo vabbè eredito ma io non l'ho capito c'è alcune cubo ma perché perché ho capito ma ne hanno ristavano tutte rare perché ora mi fa la rara la sita e spalle ci ho capito i tuoi problemi con ami dai già con amico ex odio ai buone meglio che le troverete le prendi un pennello fa fa altro alternativo la da rielo moda la magia che annullazione sopra uno scuro c'è qualcosa che ci pensi ci sta è lui che mancava si non più sovronoscuro nel senso che è l'arto più bella comunque no ma sicuramente il fatto che tu quando blocchi l'effetto di tutti i mostri non sono più potenti quindi non troppi sovranco e poi ci sta e f***a come così comunque mi piace si sbusti interattivi ballare ragazzi siamo assai uno avanti spandis dice solo fare una brutta persona claudio comunque nero lui nero la chiesa dentro al pacchetto si trova la vampira succhia sangue vi ha trovato qui dentro la sto per uccidere io un altro due drago che mi serve tra l'altro giorno è quella moltissima è limitata però è bello che l'hanno fatto così dato che è limitato appunto uno deve prendere solo un è perfetto se siete di strani o provincia o limitati se volete fare una deck profile oppure uno sbusto in dei vostri box o delle vostre bustine potete contattarci nel link qui sotto e fissare una puntata nei commenti o nei commenti o nei commenti grifone e il drago ma allora no questa è la odio pure perché c'è il mano allora stellone quella fa più schifo di quella allora perché fate queste erate allora ma vai spoglio spoglio la carta dell'articolo eppure è bella la carta nell'articolo è bella la domanda non è perché c'è in giappone ci sono le parole nelle strutture deck e quale fare noi ci sono le c'è liga bue ma questa è quella carta questa è la siglet si questa è la famosa sigletta da sigletta comune ne sono trovate talmente tante sigletta che l'hanno fatta comune da sigletta comune è un attimo ho capito che vadi vadi bella donna dai un altro sacchino allora allora un'altra affermazione questa è la carta più schifo del mondo 2 si chiamano bella madonna perché avete cambiato con bella donna in italiano perché non possono bestemmiare in italiano non è la bestemmiata bella madonna ma sarebbe stata bestemmiata ho capito quello l'altro disco oppure è la carne montana però non è che la levi talismani no il piede libro è un ancora vero quello mi serve e si alza la curva ammazza a kill ammazza eccolo qui il neo kaiser grande non capito un kaiser non l'ho letta però quindi voglio evitare di esprimermi a meno se no diventa troppo lungo me la fai leggere personalmente con un'altra cosa che dirà e vedi che sono tutti la firma chiede che erano tutta l'acqua sono quelli ah ok erano il genio ho capito che sono le zanzare però dai giacca un detentore dei cristalli e vai 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 o incrocio dirà pericolo quanti pericolo escono tantissimi sono tutti no comunque ogni riferimento è puramente casuale eccolo qua no è basto purtroppo è uscito dallo stand uscita dallo stand si esatto è vero è derivato di x fortissimo ciò può capire quattro mana quando in gioco spacca creatura 22 fortissimo gg a dir poco bella questa prova si me ne serve un certo ultimo macchetto del quarto che non so al copano d'oro musica ma off men off men o apprendista l'arma perché è ancora un bel bellissime allora allora c'è un piccolo problema non ho fatto ultime però non dovevate far riuscire queste così però ma è bandito tutto il mazzo dottore viene di spazzo ha fatto altri rai con l'alternativo occhi blu no non è per lamentare sempre con un poco poco ce la vendiamo invece la vendiamo sempre ci la vendiamo con tutti ha chiamato spesso la cona vai 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 un altro un altro drago al lato di via è nato zaita se ora inizia ad andare un filo filo più su e così se non sono tutte sotto ma che va bene ammetti vai di vadi poi non vi preoccupate ogni carta per chi ci conosce sa che la sua bustina non sarà trattata più vada e poi o bella ma questa era la monna bella per la madonna trisbaina è un'altra ma la drago del mana mana no allora non lo facciamo per rispetto delle carte del gioco però lo meriterebbe tantissimo col taglierino una centra rana perché sei una rana una rana pescatrice di gormann una carta rana vai 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 pietra libro drago del tuono è già ti stavo dicendo che ogni volta che c'è un incantesimo c'è un pericolo che ti stavo dicendo che per ogni cosa c'è ora che tocchi il tavolo che mi muovi no che mi muovi si muove da sole ragazzi arboria bellissima secret parla con la carta merita tantissimo ultimo stavo facendo luce merita tantissimo vabbè ma scusami fai una carta è una sola carta che ferma il mondo e non me la fai rana rana pescatrice di gormann comunque un saluto a mister freddo un saluto a mister freddo e non ricordo a youtube a cagare e non anche per marra dai c'è pure marra c'è avviso più simpatico marra che simone ma io ce l'ho la foto così molto però però pancrati un massimo marcia di astro salto pure mancrati e le spazio ma in grazie ho trovato pancrati salva ancora la mia uno che si chiama pancrati io non conosco gente che si chiama pancrati pancarrè pancarrè si 3 2 1 bellissimo quello lo voglio io pure il magico no 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 il crociata resus il neocaldo il crociata resus allora allora no ma perché avete fatto le carte secret avete fatto le carte secret che sono state che sono finite perché è ultra già quella con l'hanno fatta super comune la tomba profonda io non lo so oh questo è il mio allora 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 ha fatto una giornata ha fatto in agitità allo stomaco mamma mia però però alla fine dell'inizio dei giochi stiamo giocando a shim a shim è andato bene ci piace per non per fare delle cose mizzica mizzica alla faccia del bicarbonato di sodio sono uscito un sacco di run rare devo fare qualcosa di particolare no no tutte le super le puoi levare tutte tipo fai al massimo vedere soltanto le ultra le si grazie perché magari no le promono perché tanto quelle sono forse si nibiru mette solo nibiru delle delle prove dove dimmi tutto avviso quando le metti fuori no 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 c'è no sì ok la c'è ragione ragione no 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 che schifo mi esce sempre a pensare a certa gente poi hai ragione ragione hai pancrazio giacolo ha finito il mazzo non mi rompete l'inibiru non mi rompete l'inibiru perché c'è la rana davanti la rana pescatrice ti guarda eh no è solo pochi sanani peccato peccato che c'è certa gente non guarda nemmeno tutto il video nibiru eh sono quella delle promo si solo nibiru vale tantissimo no vale tanto nel senso non di prezzo vale proprio come carta no ciupacca il volo dell'angelo dell'agnello e giacolo ah ragazzi andiamo conto di quanto non sono uscite l'angage vale un po' il resporto no no è troppo sopra è una maledizione che c'è questo negozio di l'angage comunque tranne se non c'è sabino io ho compreso il negozio è una maledizione cioè non si vedono comunque cioè sta un po' troppo giù eh lo so vieni più giù metti lì su tanto ma l'hanno visto ormai e poi fai te che non mi lasco ah ah si vedono si vedono si vedono si vedono ma posso buttare tutto aia aua 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 Hawaii Hawaii Sandina Ok ragazzi grazie mille per la visione Vi abbiamo già detto tutto nel video Però vi ricordo se siete arrivati fino a qui Spero che vi siete divertiti Like, condivisione, iscrizione al canale E ci vediamo per il prossimo video Per far sì che il divertimento non finisca mai Il vostro nonno della rete è tutto Dalla vostra rana Che come si chiama rana? Cartarano Dalla vostra c'entra rana Ah non è carta rana No è c'entra rana Dalla vostra c'entra rana E dal Gremlins Ma non si credono Lui li mette sopra la telecamera Siete dei Gremlins È tutto, l'abbiamo detto sette volte che è tutto Non so, continuerà ad essere tutto Alla prossima Ciao Salve